bella a tutti ragazzi bentornati sul canale di the batman il cavaliere oscuro di youtube qui per questo video speciale della mia nuova macchina proprio così ragazzi proprio così la nuova hyundai kona ibrida proprio così come vedete il dettaglio della nuova macchina cambia leggermente perché i fari sono stati completamente ridisegnati adesso sia il faro sotto che il faro di sotto sono completamente full led anche la calandra davanti come vedete è cambiata leggermente come vedete il logo hyundai adesso non è più nella calandra adesso dopo vi farò vedere anche l'interno della macchina la macchina non è più rossa come era il modello vecchio ma è nera i cerchi sono da i cerchi sono da 16 pollici sono più piccoli rispetto al modello precedente eccola qua adesso ve la faccio vedere eccoli qua con il luogo hybrid hyundai kona ibrida eccola qua adesso vi faccio vedere anche l'interno dell'auto chiaramente abbiamo la chiave keyless go per entrare quindi clicchiamo qui e l'auto si apre in automatico adesso ve la faccio vedere all'interno com'è questa nuova macchina eccola qua ecco il cambio automatico adesso vi faccio vedere l'accensione del quadro ve la faccio vedere due click con il pulsante ed ecco il nuovo quadro della nuova hyundai kona ibrida come vedete si può vedere tutto si può vedere anche la radio c'è tutto il menu eccoli qua qui ci sono i classici pulsanti per il clima per lo stereo i vari menu e qui chiaramente però in aggiunta c'è il tappetino wireless per caricare il telefono wireless in più chiaramente c'è il cambio automatico che nella macchina precedente non avevo eccolo qua nuovo cambio automatico molto bello e tra l'altro anche la modalità come vedete la modalità sportiva sport plus perché come vedete lo stelzo anche le levette sportive quindi la macchina è veramente veramente bellissimo come vedete ecco all'interno molto bello chiaramente c'è il pulsante start stop adesso la rispengo un attimo eccola qua vi faccio vedere anche la parte dietro che comunque vedete anche la parte dietro è abbastanza spaziosa come macchina adesso entro dentro e vi faccio vedere l'interno dell'auto come vedete eccola qua dietro comunque abbiamo la la porta per la ricarica del telefono purtroppo dietro non c'è la bocchetta dell'aria eccola qua comunque auto molto 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 spaziosa e tra l'altro anche molto bella eccole qua adesso vi faccio vedere il bagagliaio dell'auto sempre il classico bagagliaio in dotazione abbiamo il kit di emergenza il kit di gonfiaggio in più in dotazione ci hanno dato anche il ruotino di scorta come vedete e le catene da neve e questa ragazzi era la nuova hyundai kona hybrid eccola qua se vi è piaciuto questo nuovo ma breve video del canale di divata mi raccomando lasciate un like mettete un bel mi piace mi raccomando come sempre continuate a mandare il vostro supporto continuando a seguirmi al canale a presto per un nuovo video ciao e alla prossima